La squadra è stata una gran partita, una grande risposta di fronte alle mille vicissitudini che ci sono nella nostra squadra. I vari infortuni, le espulsioni, noi ce la mettiamo tutta, però se ci mettono pure questi episodi diventa proprio impossibile. C'era poco da fare di più, sicuramente potevamo essere più freddi sotto porta e concludere un po' di più qualche occasione da gol che c'è stata, però niente di più. Abbiamo difeso, abbiamo controbattuto, abbiamo lottato, di più non potevamo fare. C'è stato un grande gruppo, ragazzini, mazzei che gioca da poco, io che ho poca esperienza, tutti i grandi abbiamo dato l'anima, abbiamo dato l'anima. Dal capitano che ci ha seguito in panchina, che ci ha dato una grande mano emotiva, tutti ci abbiamo messo a tutta. Diciamo che questo è il periodo migliore della mia carriera, ho appena iniziato e da poco che ho iniziato a giocare a futsal. Naturalmente è il mister che prende le decisioni ogni settimana, io e Giuseppe abbiamo un grandissimo rapporto e ogni settimana ci alleniamo al massimo con un buon clima, come sempre. E poi il mister decide, chiunque va in campo, dal meglio, con il supporto di chi c'è fuori, sicuramente.